Eminenze, eccellenze, cari sacerdoti, diaconi, carissime autorità qui presenti, cari fratelli e sorelle, saluto tutti con grande affetto e sono molto contento di poter presiedere questa Eucaristia in occasione del quarantesimo della nostra Caritas Diocesana e vi devo dire che mi ha molto colpito la coincidenza provvidenziale del Vangelo di oggi che è una vera e propria istruzione sulla preghiera, sulla preghiera attiva e responsabilizzante e qualcuno ha detto a un certo punto che la preghiera non è tutto nella vita del discepolo ma tutto inizia con la preghiera tutto inizia con la preghiera ed è proprio così e allora vediamo brevemente cosa ci dice il Signore questa sera, in questa occasione, attraverso la parabola sulla preghiera abbiamo ascoltato, c'è una persona che ha due amici uno di loro si presenta a casa sua in tarda serata e lui nell'accoglierlo si rende conto di non avere nulla da dargli da mangiare siccome si tratta di un'ora tarda non ha altre possibilità, altri aiuti se non quello di andare a bussare a mezzanotte da un suo amico direi dando fastidio con le sue insistenze lui ha bisogno di tre pani ha bisogno di questi pani per il suo ospite e non cessa con le sue insistenze finché il suo amico non dà questo pane non ha nessun altro a cui chiedere e anche se rasenta il fastidio possiamo dire anche la spacciataggine riesce ad ottenere il pane e allora la prima considerazione che possiamo fare questa sera è questa Dio ama che gli diamo fastidio veramente Dio ama che lo importuniamo Dio ama che lo desideriamo Vi ricordate nel capitolo 18 di Luca quando si parla di quella vedova insistente fino all'eccesso Ecco, la preghiera insistente è così un bisogno reale di una persona concreta la consapevolezza di non poter sfamare la fame dell'altro e la conseguente azione di intercessione insistente per il pane che nutre la vita Il Signore rende consapevoli i Suoi discepoli che per poter vivere la fraternità il pane da dare agli altri non c'è altro pane da dare al di fuori del pane che io ricevo che significa cioè l'amore che io ricevo dal padre attraverso il figlio è quello di cui io vivo ed è quello con il quale posso amare gli altri e possiamo vivere tutti allora il frutto della preghiera è poter dire a Dio Abba, papà perché ricevo quel pane quell'amore che mi fa fratello degli altri e quell'amore che mi fa diventare figlio e mi porta a distribuire il pane a chi mi sta accanto cioè a dare vita a chi ho vicino naturalmente è il Signore l'amico dal quale ricorriamo a mezzanotte nel momento del bisogno è da Lui che andiamo dove non abbiamo altre possibilità è molto improbabile l'aiuto di chiunque altro e diciamo amico ho bisogno di tre pani per il mio fratello e soltanto tu me li puoi dare solo tu vedete qui sarebbe impossibile poter insistere con l'amico che al di fuori della parabola è il Signore stesso se non avessimo ricevuto in prima persona questo pane che naturalmente è l'Eucarestia solo sperimentando in prima persona la vita stessa di Dio ricevuta in dono ci rendiamo conto di essere chiamati a diventare noi stessi e l'Eucarestia verso il fratello Dio ama se gli diamo fastidio se lo importuniamo una seconda cosa i tre pani sono simbolici direi trinitari io ricevendo questo il secondo pane questo pane il suo corpo diventa la mia vita e se io ho il suo amore la sua vita che ricevo posso amare gli altri dare il pane dare la vita all'altro amico che cammina nella mezzanotte il nostro rapporto con Dio è sempre triangolare non è noi e Lui se Dio è Padre il mio rapporto con il Padre passa attraverso la fraternità cioè passa attraverso l'altro se non amo l'altro come fratello non posso essere figlio e quindi non lo riconosco Padre diventando come Lui io sono il terzo pane che mi do all'altro all'amico nel bisogno che va nella notte e che trova finalmente cibo trova vita però lo sappiamo bene per arrivare a questo stato di sintonia con il Signore dobbiamo passare attraverso l'esperienza di vissuto in cui ci sembra che Dio sia sordo ed è importante che sia sordo perché solo così insistiamo solo così stiamo lì con una tenacia che non demorde continuate a cercare e troverete continuate a bussare e vi sarà aperto è un comando per cui Dio vuole che noi che ciascuno di noi abbia il desiderio cercare cercare continuate a chiedere a chiedere ciò che ci manca Dio ci manca la vita l'amore la felicità quindi chiedete e vi sarà dato di sicuro e allora che cosa dice in modo particolare questa parola questa sera a noi qui riuniti in questa nostra basilica in occasione dei 40 anni della Caritas avete visto nella locandina creata per questo evento sono state messe delle mani che donano e altre mani che ricevono l'Eucaristia e allora qui concludendo mi sembra di poter ricamare questi semplici passaggi la carità che noi siamo chiamati a vivere a promuovere sostenere animare nelle nostre comunità cristiane non può essere espressione di quella ricchezza che in prima persona riceviamo dal Signore non può non essere che questa espressione dell'amore di Dio altrimenti non siamo sulla via direi giusta espressione della ricchezza che noi abbiamo ricevuto dal Signore la carità cristiana innanzitutto la continuazione della mensa eucaristica noi bussiamo alla porta del Signore riceviamo da Lui e poi facciamo lo stesso in memoria di Lui altrimenti rischiamo di privare coloro che ci chiedono il pane del dono più grande che siamo chiamati a dare il Signore stesso ce lo dice Papa Francesco nell'Evangelio di Gaudium dal momento che questa esortazione è rivolta ai membri della Chiesa Cattolica desidero affermare con dolore che la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale l'immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla fede hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia la sua benedizione la sua parola la celebrazione dei sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e di maturazione nella fede l'opzione preferenziale per i poveri deve tradursi principalmente in un'attenzione religiosa privilegiata e prioritaria e allora usando quell'espressione che usa sempre Papa Francesco potrei dire per favore non dimentichiamo questo la sorgente della nostra azione è il pane che lui stesso ci dà non può essere diversamente e poi abbiamo la sensazione di avere bisogno molto più di treppani i bisogni di questa città sono tanti siamo sollecitati a scoprire le nuove forme di povertà e la tentazione di risolvere tutto starà sempre alle nostre porte e qui vi chiedo per favore di non cedere a questo la vostra vocazione è quella di essere fermento e lievito di carità nelle nostre comunità coinvolgere tutti a celebrare l'eucarestia nella vita spezzando e donando la propria vita verso coloro che bussano non dimentichiamo che le opere segno della caritas sono segno di ciò che tutti devono vivere nella propria vita questi 40 anni di cui stiamo rendendo grazie insieme al Signore sono stati anni ricchi in cui abbiamo sperimentato la fecondità spirituale ogni volta che non abbiamo ceduto alla tentazione di vivere la carità accentando una dimensione di delega non c'è delega nel nutrire gli altri non c'è delega per la carità e infine colui che chiede il pane lo chiede per un amico non per un povero ecco coloro che hanno bisogno di pane sono amici sono dei discepoli sono dei maestri anche di vita e allora sogno che nelle nostre comunità i poveri materialmente diventino sempre più il centro anche delle nostre assemblee liturgiche siano messi nelle condizioni non solo di essere assistiti ma ascoltati accolti riconosciuti nella loro dignità di persona nella loro piena dignità solo in questo modo anche le nostre comunità saranno evangelizzate dai piccoli e si scopriranno nelle loro stesse piccolezze e povertà condizioni indispensabili per essere discepoli allora con tutto il cuore grazie a voi grazie grazie a voi operatori grazie a voi volontari che quotidianamente avete speso e spendete la vostra vita nel servire grazie a voi che sulla scia profetica del nostro carissimo Don Luigi di Liegro che ricordiamo sempre con tanto affetto e riconoscenza grazie a voi che con tanto affetto credete che il regno di Dio si edifica oggi qui nel presente è come non ricordare Don Luigi alla luce del Vangelo di oggi nel suo vivere veramente insistendo e chiedendo spazi e diritti per i piccoli era uno di questi amici insistenti per i piccoli davanti al Signore davanti alle istituzioni davanti alle comunità ve lo ripeto con tutto il cuore vi ringrazio di tutto grazie non smettete di costruire sentieri e cammini di giustizia sociale ed equità chiedendo e cercando di restituire la dignità alle persone così sia di giustizia di giustizia Grazie.